Cosa mangiare per dimagrire? Come eliminare la pancia? Trovi difficile bruciare il grasso accumulatosi nella pancia e sui fianchi? Il grasso della pancia è per di più di origine viscerale, uno dei più difficili grassi da bruciare rispetto al grasso di altre aree del corpo. Comunque è possibile bruciarlo senza impazzire troppo con la scienza. È una questione di logica fisiologica, di buon senso e di autodeterminazione. Migliaia di persone ci riescono, puoi riuscirci anche tu. Ma da dove iniziare? Da dove iniziare quindi? Parlo per esperienza. Non ho mai preteso di avere la verità assoluta, non di meno sono un naturopata nutrizionista che si interessa da più di 35 anni di questo aspetto della salute e durante questo arco di tempo ho potuto verificare che è possibile perdere peso intelligentemente e non rimetterlo successivamente se si adottano le giuste strategie. Queste comunque sono indicazioni educative e generalizzate che ovviamente non possono tenere conto delle condizioni fisiologiche, biochimiche e genetiche di ogni persona che vede questo video. Nota il disclema alla fine. Detto questo, questi sono solo 5 fattori ma sono i principali che se implementati a modo potrebbero apportare un risultato importante nella maggioranza delle persone. Il primo passo da fare è quello più ovvio ridurre l'assunzione di zuccheri e di zuccheri aggiunti nascosti come le bevande zuccherate, i dolci, biscotti, dolciumi cibi processati e lavorati contenenti elevate quantità di zucchero i quali possono aumentare il grasso addominale quando consumati in eccesso. Lo sanno tutti. Per avere un impatto serio sul grasso della pancia e dei fianchi è fondamentale quindi controllare i picchi di zucchero o glucosio nel sangue. Un numero sorprendente di snacks e bevande dietetiche sono commercializzate come alimenti dietetici benefici perché sono povere di grassi ma ciò non significa molto se poi sono pieni di zuccheri o di altri zuccheri aggiunti nascosti come l'aspartame, l'alcesulfame, il ciclamato, fruttosio, saccarosio, maltosio, destrosio, ribosio e altri ancora. Limita perciò l'assunzione di qualsiasi cibo o bevanda contenente più del 5% di zucchero e limita la a non più di due volte alla settimana. Questi zuccheri sono anche presenti nei succhi di frutta, alcolici e analcolici vari. Ricorda di leggere sempre le etichette degli alimenti. Poi ci sono i carboidrati raffinati, trasformati, lavorati cioè i carboidrati semplici dei cereali come pane bianco, pasta, pizza, biscotti, cornetti, fette biscottate, riso in bianco, ecc. Se li hai già sostituiti con quelli integrali poi con farine integrali e riso integrale a lento rilascio sì, certo, hai fatto la cosa giusta, è molto meglio ma ricorda che il tutto è comunque trasformato in glucosio o zucchero durante la digestione il quale se non sarà poi bruciato adeguatamente sarà a sua volta trasformato in lipidi o trigliceridi cioè grasso, grasso nuovo nel fegato, ingrassandolo ma verrà anche depositato nella pancia e nei fianchi. Due cose ti sorprenderanno mentre elimini il grasso addominale e quello dei fianchi la quantità di glucosio e zucchero che stavi consumando inconsapevolmente e la velocità con la quale il grasso inizierà a diminuire. Secondo fattore chiave Riduci i grassi saturi ed elimina i grassi trans Inoltre fai attenzione anche agli alimenti ricchi di grassi saturi e di grassi trans come fritture, margarina, certi formaggi, carne insaccate grassi trans, oli trans idrogenati e altro Moltissimi di questi sono presenti nei cibi e alimenti processati, lavorati, trattati contenenti una miscela di zuccheri aggiunti, grassi saturi, carboidrati raffinati e sodio attribuendo quindi all'accumulo di grasso addominale Pericoloso Di conseguenza, tre altre cose ti sorprenderanno Quanto lo zucchero e i farinaci in generale determinano la produzione di grasso e quanto invece i grassi giusti insaturi nelle giuste proporzioni aiutano quindi perfino a dimagrire Strano? No, non è strano Questo è un fatto biologico e biochimico che noi naturopati e nutrizionisti abbiamo constatato da decenni Oltre a ridurre l'assunzione di zuccheri e di tutto ciò che è a base farinacea e a evitare quindi l'eccesso di grassi saturi e grassi trans consumare giusti e importanti grassi essenziali insaturi come l'omega 3 che danno sazietà aiutano a ridurre i picchi glicemici promuovono la massa muscolare magra riducono l'infiammazione aiutano il metabolismo e di conseguenza lo smaltimento del grasso in eccesso Questa è saggezza Terzo fattore chiave Mangia più fibre Consuma cibi ricchi di fibre i cosiddetti carboidrati complessi La fibra è essenziale per mantenere anche un sistema digestivo sano Le fibre nutrono i cosiddetti batteri buoni nell'intestino mantenendo lo sgombro da rifiuti e svolgendo un ruolo cruciale in molti aspetti della salute Le fibre aiutano ad assimilare, ad assorbire quindi i necessari nutrimenti supportando il sistema immunitario sostenendo le varie funzioni metaboliche influenzando il controllo dello zucchero nel sangue che a sua volta svolge un ruolo nell'interazione che il pancreas e il fegato hanno nel determinare la funzione celebrale e persino emotiva il grasso accumulato e quindi il peso corporeo Senza farla troppo complicata gli alimenti ricchi di fibre che puoi consumare sono le verdure a foglia verde insalate varie i legumi come i fagioli le lenticchie e i ceci poi ci sono l'avena, l'avocado e le noci e i semi oleosi sempre considerando le giuste proporzioni troverai un video sotto e alla fine che ti chiarirà bene il punto Quarto fattore chiave DIGIUNO A INTERMITTENZA DIGIUNO INTERMITTENTE Ora va di moda e tutti ne parlano ma personalmente ho fatto digiuno intermittente saltuariamente e a modo mio per diversi decenni solo che all'epoca noi lo chiamavamo digiuno periodico giornaliero più o meno la stessa cosa In sostanza si tratta di concentrarsi nel nutrirsi più che nell'abbuffarsi cioè fermarsi quando non si ha più lo stimolo della fame Difficile? Sì, all'inizio ma più educhi la tua mente più diventa facile e naturale farlo Comunque il diciuno intermittente si basa sull'idea di mangiare durante alcune ore della giornata per poi non mangiare nelle rimanenti ore Inoltre si può decidere di mangiare accortamente cioè limitandoci a non più di 700-900 calorie una o due volte la settimana È una scelta ovviamente personale ma così facendo non solo perdi peso semplicemente mangiando meno calorie ma il tuo corpo risponde allo stress del digiuno e dell'alimentazione limitato periodica migliorando la funzione ormonale metabolica e approntando una serie di cambiamenti per aiutare a bruciare i grassi e a facilitare quindi la perdita di peso più saggiamente e a lungo termine Quinto fattore chiave Muoviti di più Tutto quello che abbiamo detto finora però deve essere supportato dall'esercizio fisico Devi bruciare le calorie accumulate Lo scopo è di bruciare più calorie di quanto ne hai introdotte durante la giornata invertendo l'interruttore metabolico L'esercizio fisico è anche efficace nel distribuire i nutrimenti nei nostri organi nelle nostre ossa e nei nostri muscoli quindi muoviti di più fai del jogging se hai l'età per farlo o semplicemente cammina più spedito più spedita fai dell'aerobica vai in bicicletta in piscina solleva pesi in casa regolarmente eccetera Tuttavia tieni presente che l'esercizio può non essere sufficiente nel contribuire ad eliminare l'ultimo pezzettino di grasso ma sicuramente aiuterà e ti darà la possibilità di tenerlo lontano quindi fallo è un fattore chiave indispensabile Infine autodisciplinati e premiati una volta alla settimana con un piccolo sgarro così da non sentirti privata o privato di quello che trovi al momento difficile da eliminare Bene per capire ulteriormente i punti considerati finora dai un'occhiata ai video qui sotto e sopra alla fine che ti convinceranno e aiuteranno nella tua determinazione di bruciare il grasso accumulato nella pancia e nei fianchi in modo intelligente sano e duraturo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti